isola dei famosi colpo di scena rientrano tutti i naufraghi eliminati o no esclusivo non era mai successo prima ma questa volta la produzione ha accettato e il settimanale oggi vi può svelare in esclusiva che cosa è successo veramente dietro le quinte clamoroso colpo di scena all'isola dei famosi per cercare di risollevare gli ascolti che scricchiolano un po la produzione ha preso la decisione che mai prima d'ora era stata presa alessia marcuzzi è pronta a riaccogliere tutti i naufraghi già eliminati che quindi sbarcano nuovamente a caio cocianos ma il settimanale oggi è in grado di svelare in esclusiva il vero motivo che si nasconde dietro a questa incredibile decisione che non è una questione di auditel e i riammessi clamoroso tre concorrenti eliminati dall'isola dei famosi torneranno in gioco si tratta di filippo nardi cecilia capriotti e nadia rinaldi chi di loro era già rientrato in italia partirà sabato per l'honduras così da esserci per la prossima puntata in diretta eva engher invece alla quale pur era stato proposto si è rifiutata di rimettere piede sull'isola altro dietro fronte forse però